Allora, siamo qui con Piero Calabrese che è uno dei fondatori dell'Accademia Spettacolo Italia che è una fuscina di giovani talenti nata lo scorso settembre. Nata lo scorso settembre da un'idea che abbiamo avuto con Gianni Marsili, Elio Cipri, Massimo Calabrese, Fulvio Tomavino e me di portare avanti un discorso che non esiste probabilmente. I ragazzi li troviamo molto allo sbaraglio nel campo della musica a meno che non siano seguiti da qualche produttore ma chiaramente questo discorso diventa molto di elite e quindi per questo motivo abbiamo pensato di avere un approccio del genere ma dedicandoci accademicamente a una grande moltitudine di ragazzi che stiamo seguendo personalmente tutti quanti come se fossero delle produzioni, proprio per dare sempre di più ad ognuno di loro uno stile, un repertorio, una personalità. Quanti ragazzi sono? Abbiamo avuto in questo primo anno accademico 100 iscritti. Dopodiché noi ci vediamo, i ragazzi vengono seguiti in vari gruppi, vengono seguiti in piccoli gruppi con diversi insegnanti, ognuno con la propria materia fino ad arrivare a un risultato, speriamo anche nel prossimo anno un risultato preciso per ognuno di loro, dare professionalità senza dare troppi sogni e illusioni nell'età dei talent. La sede dell'Accademia è su un barcone lungo il Tevere, qui siamo a lungo il Tevere Roma quindi c'è questa attrazione con l'acqua? Assolutamente, questo respirare la romanità nel senso più romantico e più antico. Sì, la nostra sede è un insolito battello sul Tevere con delle aule bellissime, tutte quante molto luminose e tutte in legno. Abbiamo retto a tutte le intemperie, piogge, alluvioni, cioè noi viaggiamo e navichiamo tranquillamente e mi hai detto che questa è un'atmosfera bellissima, diciamo che per quello che deve essere il senso creativo, artistico è molto stimolante. Grazie mille.